In soli quattro anni la fotografia dell'Abruzzo orientato al digitale cambia radicalmente. La fibra ottica e la connessione fino a 1000 mega raggiungono sempre più comuni, ma anche scuole, uffici e aziende. Navigare fino a un gigabit nel 2018 era un miraggio per la stragrande maggioranza della popolazione. Oggi Fibra 1000 è già realtà anche per 52 piccoli comuni raggiunti dalla rete realizzata da OpenFiber nell'ambito del programma Bull. In pratica un sesto dei centri abruzzesi, ma la percentuale sale molto di più se rapportata ai comuni con dimensioni al di sotto dei 5.000 abitanti. Una grande opportunità per famiglie e aziende che nella fibra ottica trovano finalmente risposta alle esigenze quotidiane. La banda larga è un'esigenza primaria ormai, afferma il management di Interfibra, impresa locale che di internet veloce ovunque ha fatto una missione più che uno slogan. Ogni comune attivo ha una conquista sociale, oltre che tecnologica, afferma ancora Interfibra, che commercializza in Abruzzo servizi di connettività anche in fibra ottica. L'elenco dei comuni è robusto nell'arco di tutte le province. Dalla montagna al mare si va da Rivisondoli a Fossa Cesia. Piccoli scrigni come Cocullo, paese dei Serpari e di San Domenico, o l'avanguardia turistica di Santo Stefano di Sessanio, soli 117 residenti nel cuore del Parco del Gran Sasso. Fin qui i piccoli centri del nostro splendido Abruzzo, ma la rete veloce fino a un gigabit è la rivoluzione tecnica che nelle ultime settimane ha entusiasmato Pescara, oltre a diversi altri grandi centri della regione. Negli ultimi mesi la tecnologia ha fatto passi da gigante e un dovere comunicarlo a tutti, mentre abbiamo implementato specifici servizi di assistenza telefonica per aiutare gli utenti a orientarsi tra i tanti servizi e soluzioni tecniche disponibili, conclude il management di Interfibra. Chiudiamo questo servizio con le immagini di una splendida regione vista dal cielo, con le immagini realizzate a Pescara e con protagonista Alagos, meraviglioso esemplare di Falco che vive in Abruzzo, che è simbolo della velocità come la fibra.